Alex Jones, fondatore del sito Infoworlds, è tra i più celebri complottisti statunitensi, ora ha presentato domanda per la bancarotta assistita, citato come motivo il miliardo e mezzo che è stato condannato a pagare per i danni alle famiglie delle vittime della sparatoria nella scuola Sandy Hook avvenuta nel 2012. Per anni l'uomo ha sostenuto che quell'episodio fosse stata una messa in scena con lo scopo di promuovere la politica contro le armi, ora la domanda presentata da Jones potrebbe ulteriormente ritardare il pagamento dei danni alle famiglie delle vittime.